Definisce il premier israeliano Bennett l'uomo dei tre no. No a un incontro col presidente Abu Mazen, no alla ripresa nei negoziati di pace, no a uno Stato palestinese. Assicura che i rapporti con gli Stati Uniti di Joe Biden siano buoni, a differenza di quelli con il suo predecessore Trump, glissa sul calo verticale di consensi verso l'attuale leadership palestinese e la sua deriva sempre più autoritaria. Ammette che la situazione finanziaria nei territori sia disastrosa. Incontrando la stampa estera Ramallah, Mohamed Shtaieh, primo ministro palestinese, disegna il suo quadro del conflitto. Rispetto al sempre più grave deficit di bilancio, l'ultimo allarme per lo Stato finanziario in cui versa l'autorità palestinese è arrivato pochi giorni fa dalla Banca Mondiale, Shtaieh dice di aver chiesto aiuto agli Stati Uniti. Speriamo mantengano tutte le promesse, afferma il primo ministro di Ramallah, come quella della riapertura del Consolato americano a Gerusalemme, chiuso da Trump che vi ha spostato invece l'ambasciata, e come quella di fare congelare ad Israele l'espansione degli insediamenti illegali. Nello scorso mese sono stati particolarmente violenti gli attacchi dei coloni ai contadini palestinesi durante la raccolta delle olive. Parlando della sua partecipazione alla conferenza su clima di Glasgow, Shtaieh ha concluso ricordando il danno anche ambientale causato dalle migliaia di ulivi centenari sradicati dalle ruspe israeliane per costruire case e strade per i coloni nelle terre palestinesi.